Su questo computer, perfetto. Volevo sentire un po' di persone nuove oggi, tipo vedo Marco, c'è Bai che magari posso dargli la mano, Miriana. Chi ha bisogno, raga, faccia domande senza problemi, anche il semplice settaggio operativo, cioè qualsiasi cosa, ok? Giallo sicuramente ci avrà qualcosa da chiedermi come al solito, non c'è nessun tipo di problema. Sono io Andrea? Certo. Allora, premetto che mi è stato spiegato tipo cinque volte, ma a me ancora non entra in testa come funziona bene l'ADX. Ok, va benissimo. Allora, innanzitutto tu hai un'operatività intraday o multiday? Io opero solitamente nel quattro ore con la strategia delle bande di Fabrizio principalmente. Ok, allora rimango perfettamente su questa schermata, perfetto. Va benissimo. Allora, l'ADX, ok, è un indicatore che ci fa individuare che cosa, se c'è un trend in corso oppure no. Quando c'è un trend in corso? Quando la linea mobile, scusami, la linea fissa, questa linea qua del livello 30, viene superata dalla linea mobile, dalla media mobile dell'ADX. Quindi cosa vuol dire? La supera in questa maniera qua, vuol dire che c'è un trend in corso. Infatti, come andiamo a vedere, ok, ci siamo. Da quando è partita questa candela qua, ok, siamo andati sopra di più o meno, vediamo subito, ok, 40 pip, 50 pip. Ok. Senza questa collinetta, diciamo, ovviamente si può verificare che c'è l'oscillazione delle candele, però effettivamente un trend in corso non c'è. Ok, quindi cosa vuol dire? Che i compratori e i venditori non c'è una fase, cioè non c'è una forza ben definita di chi sta vincendo. Si sa che c'è un trend oppure no. Che sia rialzista o ribassista, comunque sia supera il livello 30? Sì, esatto. A te ti interessa soltanto che supera il livello 30, poi che ribassista o rialzista lo vedi poi dallo stocastico. Se è in una fase di per comprato o meglio una fase di per venduto. Ok, quindi potenzialmente quando sta sotto c'è lateralità? No, no, non per forza, perché guarda, ti faccio vedere. In questa fase qua vedi che la DX è sotto. Invece se andiamo a vedere è successa esattamente questa roba qua. Ok. Ok, è una conferma che c'è a DX per entrare in operazione. Come ad esempio, se io volessi entrare, in questo caso usiamo questa strategia. Sappiamo che la media mobile in questo caso può fare o da resistenza o da supporto. Ok. In questo caso l'ho fatto da supporto. Perché? Perché praticamente si è chiusa questa candela sulla linea mobile e, come tu sai, la strategia cosa dice? Che dopo la candela progetto, qualora nasce una candela che supera la candela progetto e conferma il suo trend. Ok, quindi in questo caso la mia candela progetto è questa qua, che è una fase di... Aspetta che magari faccio così che si vede meglio. Eravamo qua. No, non eravamo qua, eravamo qua. No, aspetta un attimo, mi sono perso. Qua eravamo, eccoci qua. Ok, ci sono. Quindi cosa succede? Toccato la banda di Bollinger esterna, è andato in quella interna, ha fatto una breve laterizzazione e poi è andato verso la linea mobile. Ok, ora cosa succede? La strategia dice che dovrebbe andare nella Bollinger superiore, giusto? Mhm. Ok, però guardiamo un attimino cosa è successo. Perché io avrei chiuso l'operazione in profit. Perché? Perché una volta che ha superato la linea mobile, come puoi vedere, c'è stata una candela ribassista. Ok, quindi io avrei già chiuso la mia fase di operatività. Candela progetto, rialzista, però in verità quella successiva è ribassista. Quindi io già per otto ore non avrei operato. Le successive otto invece sì, perché? Candela progetto, rialzista, la successiva supera notevolmente la grandezza della nostra candela progetto. Giusto? Questa qua, Miri. Quindi cosa succede? Entro in buy. Entrando in buy avrei fatto almeno 47 pip. È facile dire arrivo fino a qua, sì, però ti sfido a fare 100 pip con questa freddezza. Quindi diciamo che analizziamo bene la situazione, avrei fatto almeno 50 pip. Ok? Grazie. Ma niente, figurati. Qualsiasi cosa. Anzi, guarda, ti faccio vedere anche un'altra cosa. La DX, appunto dove, io non l'avevo guardato, mi è venuto adesso, mi è venuto a guardarlo adesso. Tra l'altro se tu fossi entrata nella candela che appunto avevamo individuato, come vedi la DX aveva già iniziato a sparare verso l'alto. Lo stocastico ti confermava che c'era possesso della scena da parte dei compratori, ma Tia System ti faceva andare proprio liscia come l'olio. Quindi tu avevi quattro conferme nella tua operatività. Cioè avevi una probabilità di successo del 100%. È vero che qua stiamo parlando di 4, 8, 12, 16, 20 ore. In 20 ore fare 50 pip a noi poco ci interessa. Perché? Perché queste 50 pip se fossero state usate con il nostro money management corretto, mettiamo caso, mi spiego meglio, che il nostro money management è fare tre operazioni per un totale per usare il nostro 3%. In questo caso l'1% d'operatività del money management l'avremmo fatto senza problemi. Quindi se tu usassi un conto da 1000 euro, ok, il tuo 1% erano 10 euro, siamo d'accordo tutti quanti. Però inizia a farlo per tutti i giorni, per tre operazioni al giorno, visto che comunque sono 20 ore d'operatività, e arrivare poi ad avere un conto da 1500-2000. I 30 euro poi iniziano a diventare 60, 90, 100, così via. Quindi meglio andare piano e lontano. Soprattutto in un'operativa multiday. Soprattutto in un'operativa multiday. Ok. Ragazzi? È un GBP, Andre. È un esempio, sarebbe un esempio da capire. H4. Ok, vado subito. Devo usare questa operatività qua, Axel? Sì, non stavamo proprio parlando prima con la Miriana, se entrarò meno, perché la DX a me non convinceva. Andiamo subito. Aspetta che vi sposto in questa parte. Ok. Allora. Allora, 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 allora. Eh, questa non è... Questa qua non è da entrare per un semplice motivo che... C'è in corso una candela... Sì, sono in H4, sì, ok. C'è in corso una candela di indecisione. Potrebbe morire come doji. Potrebbe morire come doji. Quindi cosa succede? C'è una doji, quello che ci viene detto, che ci è stato insegnato, è stato attenzione che adesso può succedere di tutto. Giusto? Può essere che scoppia verso l'alto come può essere che scoppia verso il basso. Quindi, in questo caso io non entrerei. In questo momento. Però, magari andiamo a vedere un attimino cosa sta succedendo nei time frame inferiori. M30 magari, vediamo. Eh, vedi, c'è già una bella laterizzazione. Guarda qua che roba. Forme, rettangolo. C'è un'alterizzazione che sta durando dalle 7 del mattino, più o meno. Io aspetterei, infatti guarda, così si vede meglio. Infatti vedi, tac. Io aspetterei che finisca il corso questa candela, ovviamente, e prenderei piuttosto il segnale in corso domani mattina, visto che è un H4. Perché tu qua saresti entrato in buy? Cioè, ne stavamo parlando che per dire c'era la fuoriuscita e rientro. Lo stocastico che era in ipervenduto, però appunto c'era la Dix, che io poi ce l'ho su MetaTrader come te ho detto diverso, che te l'avevo fatto vedere a San Marino. Però comunque sia, mi evidenziava che era sul 39 circa. Quindi non ero proprio propenso. Beh, fatta un attimo, allora. Vedi? Non abbiamo neanche... Ah. Ok. Allora, diciamo che in corso ha quasi toccato un supporto che non toccava dal 2019. Esatto, sì, avevo notato anche io questa cosa. Infatti stamattina ero entrata, poi ho avuto paura, dopo un pochino l'ho chiusa. Ok, allora. Il discorso è questo. Proviamo a fare una roba di questo tipo, vediamo se si può creare qualcosa. Allora, questo qua è uno, questo qua è l'altro. Però io tendenzialmente prenderei già questo. Vediamo un attimo cosa succede. Facciamo fino a qua. Torniamo in H4. Ok. Allora, il discorso è questo. Lasciamo stare il livello zero di Fubalacci perché potrebbe superarlo tranquillamente, visto che ho considerato che c'è l'adoggi in corso. E lo stocastico, come vedete, è una fase di ipervenduto. E comunque c'è un trend in corso da parte della DX, quindi più stallo di questo, infatti in Mastia System ci viene in soccorso che è nero, più stallo di questo, raga. Cioè, ok. Ora cosa succede? Se vai in mattina, io mi accorgo che c'è stata una proiezione verso il basso, appunto toccare questo famoso supporto che abbiamo visto che non toccava da 2020, quindi quasi due anni fa. Ora cosa succede? Se rimane in quella fase là e non va più sotto del previsto, io potrei giocare in bye. Potrei fare una prova. Anche se non ho conferme. Perché? Perché è mal che vada, rinuncio al mio 1%. È vero. Però potrebbe essere un minimo storico che tocca in una fase settimanale. Quindi è anche vero che domani è venerdì, caspita. Però possiamo provarci. Magari in 24 ore fai i numeri. Non so se ti ho risposto bene a tutto, Axel. Dimmi tu. No, sì, sì, sì. Va bene. Altri, raga? Intanto l'audio USD di WUS sta andando un po' malino. Ma con le bande, te metti le doppie bande quando sei in time frame più alti, giusto? Sì, sì. E se lavori in H1, si mette la banda singola o le doppie? Bella domanda, bella domanda. Allora, io mi trovo bene anche in H1 a lavorare così, sto sincero. Come in questo caso, vedi? In H4 mi dice stallo in H1, io sarei andato in cell. Però mi trovo bene anche in H1 a lavorare così. Ok. Perché alla fine, perché alla fine dei conti la banda esterna è quella che già usiamo da intraday. La banda interna è quella nuova di Fabrizio, per il multi-day. Certo. Per farci creare, insomma, più take profit. E come, Anderio, scusami, questa è una domanda proprio, come la metto la doppia banda? Perché non l'ho mai messa, uso sempre le singole. Ok, inserisci. Sì. In poche parole fai due bollinger, fai due indicatori bollinger-benza. Ah, ok. L'unica cosa che cambia è che una è una deviazione, l'altra è due. Ah, perfetto, ok. Sì, sì. Benissimo, grazie. No, di che cosa? Figurati. Sì, comunque, qua nell'immediato è ribassista. Anche in M5 ha preso la media mobile, trasformandola in una resistenza. Secondo me adesso lo stocassico incrocia pure per andare di nuovo verso il basso, come è successo qua. Sì, potrebbe essere. Allora, vediamo se ci sono domande, no. Intanto vorrei sentire qualcuno di nuovo, raga. Tipo il Marco. Andrea, io vi ascolto. No, ma dimmi te, anche, te l'ho detto, anche se per una semplice, una semplice mano sul come settare il grafico, cioè senza problemi. Sì, allora, io ancora sono in M5, ok? Quindi sto provando varie strategie per vedere quale sia la più funzionale a me, ok? Giusto. Quindi, sì, vi ascolto. Ok. Tu com'è che stai procedendo? Cioè, qual è quella che ti sta dando più aiuti come strategia? Allora, adesso stavo utilizzando le ghinasci. Ok. Sul 15 minuti. Ok. Ok, stavo rovando questa. Allora, io le ho tolte. Pullback e reverse di Fabrizio, ecco. Ok, il pullback, come dicevo settimana scorsa, adesso nelle prossime settimane vi aiuterò, perché io sono fatto un po' così, nel senso, quando una cosa la conosco al 100%, sono tranquillo a parlarne. Quando invece una cosa c'è qualche dubbio da parte mia, sono un po' restio, no? Quindi sto aspettando per definire bene il pullback, che sono proprio tranquillo ad aiutarvi, perché, sai, se sbaglio da solo è un conto, però se sbagliamo tutti insieme diventa un problema, perché i formatori sono loro, io sono dentro soltanto da un po' più di tempo e basta, tutto qui. Però ti dico, io le che nasce, ad esempio, non le uso. Ti spiego il motivo. Io lavoro su un time frame di H1, quando appunto sono lavoro e quant'altro, quindi non posso stare col ciulare in mano, però ho scoperto, come dicevo settimana scorsa, che anche con l'M15, quando invece sono tranquillo a casa, mi sto trovando da Dio. e mi sto trovando veramente bene. Cosa succede? Se io mettessi adesso lei che nasci, ok, ti faccio vedere, inserisci, personalizza, lei che nasci. Sì, sta roba fa niente, anzi, ma devo cambiarla, cavolo. Allora, facciamo i datori, e che nasci, modifica. Gear candlestick, rosso, ok, shadow, questo invece la voglio blu. Questa blu. Ok. Chiudi. Ok. Facciamo grafico a linea, perfetto. Come vedi, non ci sono, non puoi trovare i pattern delle candele. Cioè, è tutto un impiccato, è tutto un ad oggi, è tutto un hammer, un reverse hammer, anche se lavori in M30, ok, è tutto pressoché uguale. Io ad un certo punto sono arrivato che non capivo veramente più niente, perché, perché, vedi, qua ad esempio c'è una, una doji, cosa succede? Tu sei in fase di indecisione, infatti, fortunatamente, qua già ci veniva il Mattia System in soccorso, però io già qua sarei entrato in buy, con lei che nasci, perché? Perché c'ho già lo stocastico stando verso l'altro, e in più la DX era una fase di conferma del trend. Quindi io già qua stavo entrando in buy, quando invece potevo salvaguardarmi questi dieci pip, che poi da un momento all'altro, come puoi vedere in ogni dove, guarda qua, guarda qua, anche qua, no, questo qua l'ha preso molto bene, e che può esserci anche un trend ribassista. Adesso guarda qua, ti faccio vedere, indicatori, tolgo le chienasci, chiudi, torno con il mio grafico a candele, Questo, chi è che lo sa cos'è? La candela blu con la testa verso il basso. È un hammer. Ok, quindi cosa mi dice l'hammer? L'inverter armor, che praticamente c'è il cambio di trend. Bravissimo. Quella prima era la Dodge. Ad esempio, questa, questa qua, questa qua, nell'ichina scena ad oggi. Io qua c'ho già un altro tipo di segnale, c'ho che cosa? Che l'inverter armor, infatti adesso sta cercando, diciamo, potenza da parte dei compratori, per poi salire verso l'alto. Ma io qua c'ho più informazioni. Perché? Perché anche questo qua, che è l'impiccato, l'impiccato, quando appare, dà sempre conferma del trend rialzista. Perché il corpo è il corpo superiore, cioè il corpo della candela, si è chiuso in una forma abbastanza piatta. Questo vuol dire che i venditori non riescono a trovare potenza per far scendere sto prezzo. Quindi, tendenzialmente, per logica, vuol dire che stanno vincendo i compratori. C'è stata poi... Questa qua è una candela di indecisione. Quindi, come ti dicevo, i compratori stanno raccogliendo potenza. Io mi aspetto che questo va almeno fino a... Almeno fino a qua. Ti faccio vedere. E faccia, allo stato attuale, 20... 30 pip. Però, entrare adesso è sbagliato. Perché? Perché questa potrebbe tornare tranquillamente anche fino a qua. Tranquillamente. Almeno fino a qua tutto. Quindi, anziché farne 20, 25, noi potremmo fare 38. Quindi, aspettiamo conferme. Può essere che prima che finiamo stasera possiamo anche entrare. Ovviamente è tutto in demo, eh, raga. Io non voglio... Sulla coscienza nessuno. Ok. Quindi, questo qua lo teniamo un attimino da parte. GBPCHF. Lo metto per ultimo, almeno ce lo ricordiamo. Vediamo cosa succede tra... Tra un quarto d'ora. Ok. Vediamo qua chi c'è, vediamo qua chi c'è, vediamo qua chi c'è. C'è Monia. Che mi stava guardando per non chiamarmi. Quale utente Zoom e non posso vedere il nome. Dai, raga, senza paura. L'indita. Ok. Perché tanto nessuno nasce imparato, ragazzi. Quindi. Intanto vado a vedere un po' di cosine mie. Allora. È tornato. Ok, perfetto. DST. Di GUS. Ecco. In questo caso qua, questo qua è un segnale di chip. Che è stato messo adesso. Allora. In questo caso qua, si è fermato in questa fase perché, come vedete, circa 12 ore fa, c'è stata queste due candele che hanno raggiunto questo massimo. Ok. E in questo caso stanno creando un supporto. Ora cosa succede? Se sfondo nel supporto, la mia operazione andrà in stop loss. Qualora non fosse, torna immediatamente verso il key level giornaliero che ho tracciato appunto in daily. Eccolo qua. Chiamiamo H1. Ora vediamo un attimo cosa sta succedendo però quasi in diretta, NM15. Ok, questo potrebbe scendere. Non lo so, non lo so. Secondo me è facile che prendiamo lo stop loss con questo segnale. Stiamo a vedere. Poi gli altri che ho fatto io, Euro SD. Ok. Andrè, tu utilizzi anche le figure, visto che nessuno chiede. Tipo? Tipo doppio massimo, doppio minimo, triplo massimo. Sì, sto provando sinceramente. Tessa spalla, sì, ci sto provando. Giusto perché l'ho aperta poco fa. Ah, sì, io che mi chiedo solo cosa ne pensi. USD Yen, H4, doppio massimo. Ok, lo metto sempre su RGPP perché tu tanto lavori con quello. Quindi USD Yen. H4, andiamo on demand. Eh, tanta roba. Allora. Qua potrebbe essere anche un inizio di spalla. Beh, però invece questo qua, no, assolutamente no. Allora. Tu dici, ovviamente, per farlo diventare un ordine rialzista. No, sono entrato esattamente. Allora, se tu sei entrato in, vediamo se, in 115, 700 più o meno, anzi, anche 600, per il ribassista l'hai cecchinato alla grande. No, io sono ancora aperto per andare in sello. Ok, quindi non sei ancora entrato in sello? No, no, sono già entrato. Sono entrato a 115, 472. Ok, poco fa allora. Beh, comunque, allora, non è cecchinata, però voglio dire, qua ci arriva tranquillamente. I tuoi 20 pip e te li fai. Anche perché poi nel corso del suo movimento io non vedo neanche supporti o resistenze. Il primo che mi viene ad occhio è questo qua. Con questo, questo, questi. Quindi ritorniamo dentro. Eh sì, in teoria, sì, 20 pip te li sei fatti. Ah sì, ma l'ho vista giusto mentre cucinavo, quindi... Però questo doppio massimo, ad esempio, ok, l'abbiamo individuato, però ti serve se vuoi entrare qua. Andrei, ma non potrebbe esserci una resistenza importante a 115, 35? 115 e 35. Sì, che è più o meno quella che ho chiamato io, perché la mia era a 115, 30. Quindi 5 pip in meno. Sì, comunque, è questa fascia qua. Lui, comunque, anche toccando questa qua... Arrivava a profit, sì, sì, sì. Eh sì, perché lui era 115, 4... 115, 4? 7, 2. Sì, sì, sì. Vero. Sì, sì, i suoi... Comunque almeno 15, 20 pip se li fai. Vero, no, no. Infatti era l'unica resistenza che vedevo. È la prima, più che altro. È la prima che gli si presenta, perché qualora poi la sfonda... Su me può sfondarla, non ti dico tranquillamente, però abbastanza facilmente, perché comunque, ragazzi, qua lo stocassico deve scendere adesso. Cioè, potrebbe scendere. Esatto, soprattutto perché, cioè, in verità, il mio target... Cioè, il nostro target, perché non l'ho deciso da solo, chiedo... No, anzi, non l'ho proprio messo, lo chiedo alla Miriana in live di dirlo, perché non... Me lo sono dimenticato di insegnare, il take profit. Perché l'abbiamo messo ben più. Aspettati. Sei mutata, Miri. Ok. Ok. Il target l'ho messo alla fine della figura, perché potenzialmente andrà a creare una M. Sì, hai ragione. Quindi l'hai messo a 114... L'ho messo, esattamente, a 114, 760. 760. Guarda. Allora, non è assolutamente sbagliato. Assolutamente. Cioè, in modo che chiude la figura, doppio massimo, quindi arriva... Allora, io ti dico pure una cosa. Io mi aspetto pure in una roba di questo tipo. Che faccia? Potrebbe fare tranquillamente una roba di questo tipo, cominci te? risalire per toccare in linea d'aria questa resistenza, e poi scendere ancora tranquillamente, almeno per altre 50 pipa. Quindi, tac, 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 ritracciare un pochino e cadere. C'era un pattern di oracolo, mi sembra, ieri in H4, che però non avevo preso, che è sempre in cell riguardo una zona d'entrata simile. Sì, eh? Sì, tra l'altro... Allora, vediamo se riesco a fare una cosa. Allora. Ovviamente è tracciata malissimo, eh? Quindi non prendete spunto, perché è tracciata veramente male. Allora. Sì, sai che... Sì, su me la tocca sta M. Però ci aggiorniamo lunedì, lunedì, poi, rimeriggio, mi sa. Ah, ma entro venerdì, entro domani alle 7 è tutto chiuso, eh? Cioè, non c'è un pericolo che... Ah, tu chiudete... Voi giustamente chiudete il weekend, è giusto? Cioè, chiudete il weekend? Io almeno personalmente non lascio aperto mai niente. No, no, ma è giustissimo, giustissimo. Perché fanno dei salti mortali imbarazzanti, eh? Fanno dei salti mortali imbarazzanti nel weekend. Cancella. Chi è che ha operato oggi con l'oro, raga? Visto che sul gruppo dei servizi vedo che con l'oro ci sono veramente... ovviamente gli accaniti. Guarda, io c'ho una questione aperta. Sì. Però, vabbè, perché ho provato con un nuovo indicatore che ha messo a disposizione Enrico, a velocità, quindi ho provato in demo con quello e sono andato a short a 1936-35. Però come target avevo 1936-35. Dove lo vedo? Quindi sei andato qua. 1036... Quindi tu eri... Alle due di oggi, può essere? Sì, ci sta. 1936-35. E come target avevo 1919, però è arrivato a 1923, ora sta risalendo. Minchia. Sai che... Allora... L'oro è... Allora... Vediamo se riesco a spiegarmi bene. Allora, prima di tutto, ovviamente sempre settimanali, fate le vostre... Le vostre bande, ok? Adesso le faccio velocissimo, giusto per andare on demand. Allora, questo qua è importantissimo. Ok, questa qua. Questa. Anche questa. E le altre mi sa che le becco tutte in daily. Vediamo. Infatti. Ok, perfetto. Allora, andiamo a beccare le daily. Allora. Se devo calcolare le on demand, queste qua per ora le lascio fuori. Prendo questa. Sarà sicuramente importante. Questa. E prendo anche quella sotto. Ok. Queste ci siamo, perché tanto devono toccare queste qua. Infatti, queste. Importantissime. Anche questa. E ci siamo. Sì, ok. Ora, facciamo così. Andiamo sempre in M15 e andiamo a toccare i... Ok, tu sei entrato più o meno a 19,36, avevi detto. A 19,36 e 50 per l'esattezza. 36,50. Esatto. Quindi è facile che sia entrato... A che ora sia entrato? Te lo ricordi? Sì, sono entrato alle 13.35. 13.35. Ok, quindi qua devo fare 14.35. Ok, si è entrato qua. Perfetto, ho provato. Ok, qua. E hai fatto 100? Hai fatto 19? No. 19? 16? L'ho fatto più di 100 pip se l'ho fatto. No, sì, sì, ma volevi mettere il take profit a 19? Scusa, il take profit l'ho messo a 19,19 e 50 e invece mi è arrivato a 19,23. Sì, la volevo chiudere, ma poi ho detto... Io non so se tu hai settato comunque così il grafico, prossima volta fallo nel caso, perché lo dico anche se magari l'hai settato. Perché? Perché tu hai fatto una roba veramente da paura, cioè fare questa cosa qua. Ok? Quindi tanta roba. Però adesso cosa succede? Se io mi accorgo che alle... È questa qua? Ok. Che alle sette e un quarto, quindi un'ora fa, ha toccato quasi la media... Il nostro K-level dell'oro, perché aveva preso un minimo massimo in precedenza. Ok? L'oro è un settimanale, Andrè. Nell'oro non ti interessa il settimanale o il giornaliero, perché bene o male saltano... Cioè, li toccano proprio tranquillamente tutti, guarda. Ok. Cioè, guarda questo. Guarda. Li toccano proprio tutti, li toccano. Sì, sì, sì. E stanno in mezzo a lateralizzare quasi in maniera chirurgica, guarda. Guarda. È vero. Ok. Quindi, tornando a noi, io ti dico, prossima volta che fai una roba del genere, che hai fatto veramente i numeri oggi, ok? Quando vedi che sta per toccare il tuo K-level, che può trasformarsi sia in resistenza come supporto, tu il tuo take profit, inizia a portarlo a casa. Ok. Perché in questo caso, ripeto, erano... tu ne hai fatti cento, potevi farne centocinquanta. Ok. Quindi tu hai fatto cento, se andiamo a vedere, tu l'hai chiusa a cento... a diciannove, ventotto, diciannove, ventisette. Ok. Anch'io, Andrè, sono entrata a una a nove e trentasei. Nove e trentasei. Eh, tanta roba. Perché praticamente avevo aperto in una a nove e venticinque, perché comunque in H1 mi dava in discesa, in cell, quindi ce l'avevo in cell, invece è salito. Poi quando ho visto che è arrivato una a nove e trentasei, stavo di nuovo scendendo, l'ho riaperto, sempre in cell, quindi mi sono presa tutti i pips fino a una a nove e ventisette, mi sembra. Ottimo. Sì, mi è andata bene. Ah no, ottimo, ottimo, bravissimi. Con loro, come operate in time frame, raga? Questa è una domanda cruciale. Allora, io oggi ho fatto in H1, guardavo solo H1 perché non lo potevo controllare sempre. Tu, Giallo? Eh, io a volte in M15, però anch'io oggi questo l'ho messo in H1. Ok. Allora, quando ero a casa... M5 e M1, Axel? Sì. Anch'io. Adesso mi spiego perché. Io quando ero a casa col Covid, perché avevo computer, telefono, tutto a portata di mano, in M5 e M15. Ok. Però lavorando lo controllo ogni tanto e quindi H1. Ok, ok. Allora, vi spiego, poi magari Axel mi può dar ragione, perché io preferisco fare un M1, M5. Massimo M15, ma già sto tremando freddo. Allora, fare l'analisi, soprattutto in questo momento, come dicevo la volta scorsa, è veramente difficile con loro. Perché può essere che scoppia la pace da un momento all'altro e non più tardi di veramente... Prendiamo questa, ok, che era del 17 febbraio, quindi due settimane fa, era praticamente sotto i 1900. Se andiamo indietro di ancora due settimane, quindi al 31 di gennaio, era sotto i 1800. Quindi l'oro, fare un'analisi tutta la vita, quella fondamentale, tutta la vita. A tecnica fai il supereroe con te stesso. Perché? Perché è una scommessa, è come te lanciare una moneta e sperare che esce testa. Perché? Perché, ripeto, in questo preciso momento, almeno, scoppia la pace da un momento all'altro, l'oro perde valore. Perché? Perché non è più un bene rifugio, perché c'è la pace, come lo era fino a un mese fa, l'abbiamo appena visto. Quindi chi riprende valore, ma tanto, i nostri amici indici, che se andiamo a vedere nella stessa tipologia del 31 gennaio, vediamo se riesco a prenderlo bene... Eccoci qua. Era, ad esempio, questo qua, il DAX tedesco, a 15,700. Oggi sta continuando a scendere ed è a 13,600. Capite proprio come si ribaltano le situazioni? Da una parte mi dice che cosa? Che il bene rifugio e l'oro non può perdere di valore in tempo di guerra. Perché? Perché è un bene finito. Dall'altra parte ci sono le potenze economiche degli indici, delle aziende che le fanno parte, che perdono valore. Perché? Perché c'è la guerra in corso, quindi di conseguenza la benzina si alza, perché il petrolio ovviamente si alza, e roba bella con l'oro. Quindi cosa succede? Quando vado con l'oro in M1, M5, ho padronanza di quello che sta succedendo grazie allo stocastico, la DX. E anche in M1, in Mattia System, è abbastanza preciso. Quando vado in M15 o superiori, devo sperare con tutto il cuore che sono stato un geometra nella mia analisi, perché tu riapri il tuo conto e ha zerato. Perché come voi sapete, stiamo trattando l'oro che in questo momento ha un costo, un valore di 1936, moltiplicato per la nostra operazione e la leva che usiamo, che sicuramente tutti 500, giusto? Tutti uno a 500, perfetto. Voi dovete fare 500 per 1936 per un per cento che usate magari su un conto da 100 euro, sono un euro. Cioè, sono traballanti. Ok, quindi per ora non andate sopra l'M5, se posso darvi un consiglio. M15 va bene se non volete vedere troppe candele, perché è tanto massimo che potete perdere nel breve. Sono 30 pip. Ok. Innanzitutto questo adesso prende di nuovo questa resistenza, questo key level. che si vuole fare un 20 pip lancio. Infatti lo lascio, io lo lascio aperto perché spero che... Assolutamente. No, no, ma lo prende, lo prende, l'ha già preso. Fidati che l'ha già preso. Te lo do per iscritto che l'ha già preso. Te lo lascio vedere. Aspetta che si toglie un attimino la cosa di zoom. Lo stocastico deve finire la sua... Sono in M5, deve finire la sua salita e deve anche curvarsi. Questo adesso tendenzialmente si abbassa, va bene, ma toccato... No, non ce l'ha neanche. No, toccato questo, si alza ancora di nuovo tranquillamente. Ok, quindi lo tocca. Sono sicuro che lo tocca. E stavo dicendo, raga, non andate oltre l'M5 perché da un momento all'altro l'oro può fare delle oscillazioni pazzesche come può essere questo, ad esempio. Voi vedete che sono quattro candele in croce con M5 ma sono 110 pip. 110 pip sull'oro conta zerato. Soprattutto con una leva superiore a 1 a 100. 1 a 100 è già tanto con l'oro. Ma non fatti io con l'oro. 0.01. Sì, sì, ma assolutamente, assolutamente. Io, guarda, cioè non vi dico palle. Io ho un conto da 2.000 euro, 2.000 dollari, scusate, ma io apro a 0.01, 0.02. Se sono sicuro, come nel caso che ti ho fatto vedere prima, che tocca, posso fare anche 0.03. Non in questo momento perché, come ti dicevo, adesso deve toccare questo supporto qua, quindi deve arrivare facile a 19.35, quindi perde ancora, però poi si alza. Quindi in questo caso appena si alzerà metterò 0.03 magari, però più di 0.03 con 2.000 dollari io non li metto, e c'è una leva 1.50 io, raga, eh. Certo. Andiamo a vedere la benzina oggi. Eh, micchia, oggi bene. Oggi qualcuno si è fatto i dindi. Ma che bella operatività. Ok, vediamo se riesco a fare una cosa. Allora, so già di pentirmi, eh. So già di pentirmi per quello che sto facendo, però vediamo un attimino. Allora, qua c'è l'oro, perfetto. Allora, sposto questo. Lo sposto qua. E ok. Non vedo trading view, Andrea, ancora nel tuo schermo, eh. Adesso lo metto. Guarda, appena lo metto, fidati che se ne accorgono tutti. Ok, ci sono quasi. Ok, allora, oro e benzina. Cosa si nota? Ad esempio, uno adesso sta calando e tra poco toccherai il livello che dicevo. L'altro invece è calato. Aspetta, andiamo anche questo in M5 che magari si vede meglio. Ok. È proprio l'opposto per ora. E invece sono due beni finiti che dovrebbero salire e scendere, tra virgolette, insieme. Cioè, in questo momento storico non si capisce neanche cosa devono fare queste due benedette cose. Perché da un momento all'altro può succedere qualcosa. Cioè, oggi ha toccato, il petrolio oggi ha toccato 114 e quasi 500. Massimo, secondo me è massimo storico. Andiamo a vedere. Infatti, massimo storico. Cioè, oggi, anzi, forse non oggi, ma ieri. No, oggi. Oggi è toccato il massimo storico. Presto in Italia vedremo la benzina a 3 euro al litro. Molto presto. Oggi, tornando a casa, erano le sette e mezza, già ho visto che era due dieci, già dalle mie parti. Abito in provincia di Milano. Facile, facile. Tra poco arriva a 3 euro al litro. Mediemobili mi dice che scende, però, anche qua, le mediemobili fare un'analisi tecnica, io non mi fido a farla. Io ho aperto in sale oggi. Sì, è. Quando è uscita la notizia, poi guardi investing.com, l'ho aperto nel primo pomeriggio dopo le tre e mezza, dopo la, mi sembra, l'uscita delle riserve strategiche del Regno Unito. Io penso che ho fatto, no, una cazzata, 50-60 euro, non di più, con Bitcoin. Perché sempre su TradingView, su Investing, era uscita la notizia che praticamente hanno donato più in cripto che in euro o dollari che siano. E, minchia, sono successe un bel po' di cose oggi, vi faccio vedere anche questo. Vediamo se ce l'ho però nei simboli, perché l'ho usato sull'altro account. Allora, Forex, Cripto, PTC, perfetto, chiudi. Metto anche qua che tanto col petrolio non dobbiamo fare niente, noi... Prendiamo un MCI 15. Ok, la giornata di oggi parte da qua. Io ho fatto esattamente questa scia qua. da 43 a quasi a 44, poi ha toccato appunto una resistenza quasi, come l'oro, no? Ha toccato quasi questa resistenza ed è andato giù. Ma Bitcoin tocca tranquillamente anche i... va sotto anche i 41, di 42 va sotto sicuramente, va a 41,5. Potrebbe andare a 41,5 adesso. Perché, Andrea, sei entrato lì? Perché sono entrato qui? Sì. Ti faccio vedere. Eccoci qua. Vediamo se ti metti nei miei occhi perché sono entrato a dirla tutta qua. Spostami per favore il cursore. Perché c'era un hammer seguita poi da quella candela rialzista, quindi il movimento avrebbe invertito. Brava. Sotto cos'è? Quindi ho già una conferma. Sotto cos'è che guardiamo? Sotto hai la DX che è in trend, lo stocastico... No, la DX invece è un punto a sfavore perché è fuori trend, è sotto trend. Non ho capito perché è un punto a sfavore. Perché non mi conferma che c'è un trend in corso, perché non ha superato i livelli... Ah, ok, scusa. Stavo guardando un po' più a sinistra. Ok, ok. Scusa. No, no, la spiegazione e la tua l'ho capita, dopo quattro spiegazioni. Vai tranquilla, vai tranquilla. Lo stocastico era in zona sotto i 20 o 25, non so come lo tieni, 25. E il Matiasystem, non so se tu sei entrato quando ancora era nero, ma comunque poi è diventato verde. Sì, sì, guarda, io sono entrato a 42, a 43,200. Eccolo qua. Io non ho mai fatto trading ancora sulle cripto. No, ma non farlo finché non raggiungere il livello di sicurezza personale da farlo, perché è peggio dell'oro. 42,000 di valore sommato a quello con cui vuoi operare per la tua leva. Quindi è 40 volte peggio il bitcoin dell'oro. Io ho una leva di 1,30. 1,30? Bravissima. Se ti abiti con quella leva fai paura a tutti. In realtà ho l'FTMO, lo swing, bro. Sì? Lo swing è da 1,30. Certo, certo. Ma a che fase sei con l'FTMO? Alla prima? Ho iniziato la challenge. Sto facendo la prima prova. Ok, ok. Poi fammi sapere come va. Io inizio tra... Ancora due mesetti mi prendo da... Da ammazzare me stesso, diciamo. Io diciamo che non ho scelto proprio il momento più adatto, perché io soprattutto utilizzo la strategia a quattro ore di Fabrizio e l'altro giorno ho aperto due operazioni precise. Tutte le conferme, mi sono andate entrambi stop loss. Quindi è un po' dura in questo periodo. Assolutamente sì. Tu come stai facendo in questi giorni? Come stai operando? Solamente in M15 perché preferisco controllare con i miei occhi cosa sta succedendo. perché, come dici te giustamente, in questo periodo sta succedendo veramente di tutto. Quindi anche davanti al grafico, dalle tre e mezza, no, due e mezza in poi, succede veramente il delirio. Dalle due e mezza? Sì, del pomeriggio, perché si apre tutto il mercato mondiale, tutto il mercato mondiale aperto e c'è il delirio in corso. Io riesco a far più profitto quando non c'è il mercato mondiale aperto, sono sincero. Quando c'è quello europeo, il nostro, quindi, quindi mattino dalle nove fino a mezzogiorno, io ho riscontrato che riesco a fare più profitti rispetto che dopo. In M15 utilizzi sempre le strategie di Fabrizio? Assolutamente sì. Ma io conosco soltanto quelle, sono sincero. Hai una, sì sì, ma anche io, hai una stima, diciamo, delle operazioni che hai aperto, che ti vanno in profitto sia con le M15 che magari in altri time frame? Personalmente io tengo un diario, una mia agenda che adesso non so dove cavolo è, devo cercarla, è il diario famoso che dice Fabrizio di fare, da compilare. Io personalmente con le mie operazioni sono sul 74-75%. Ah, però parlo solo del time frame a 15 minuti. Sì sì sì, assolutamente. Ah sì? Sono al 75%. Beh, buono, ci sta. Sì, sì, in questo periodo sì. Quando lavoravo in H1 che facevo le operazioni, che settavo, scusami, le operazioni verso quest'ora, anche alle dieci e mezza più o meno, e me le trovavo al mattino aperto chiuse, se non era il mattino, era il primo pomeriggio, e lavoravo così in H1 e ero all'ottanta, un po' più dell'ottanta per cento metti. Quindi su dieci operazioni facevo la sera, facevo otto profitti. Credo che in H4 c'è ancora più percentuale di profitto, però M15 te lo volevo chiedere perché non ci ho mai operato e dovrei fare un backtest, però devo trovare il tempo. Io guarda, io non faccio scalping, ad esempio, però ho reputo il mio M15 uno scalping. Ok. Ma in M15 Andele utilizzi le bande, giusto? La strategia di Fabrizio con le bande? No, tutto media mobile, pullback e reversal, e finisco lo stocastico praticamente. Cioè io è facile, adesso farò vedere così che c'è poca volatilità, non so già di non riuscirci, però proviamo a vedere, se posso farvi vedere cosa è interessante. In M15 non utilizzi le bande? No, io mi trovo da dio con le media mobile, mi trovo veramente da dio, perché queste non per forza sono... In media 21 e 200. 21 e 100. 21 e 100. Perché queste non devono per forza incrociare per darci profitto, raga. Queste si trasformano, se vedete, tranquillamente in che cosa? In supporti e resistenza? Sì. Quando scopriamo questo segreto e utilizziamo in demo, in demo, e sappiamo usare in demo questa strategia anche di usarla come supporto resistenza, io usando l'H1, ovviamente abbiamo scoperto che cosa? Che una candela, diciamo, una candela media, una così, ok, sono 25 pip. Quindi cosa succede? Io ho fatto tanti profitti da 25 pip soltanto con le candele che si chiudevano, come in questo caso, con le medie, ok? Ora cosa succede? In M15 io ho la continuazione della mia operatività. Perché? Mettiamo caso. Guardando lo stocastico, che io qua fossi entrato in buy. Io non aspettavo che la media mobile facesse l'inversione per incrociare. Io mi prendevo i miei 15 pip. Perché? Perché il mio TP1 è la media mobile. Infatti, come vedi, appena tocca, guarda lo stocastico cosa fa. Vrom, va giù. Ci hai fatto caso? Se non te lo faccio rivedere. Doji. Candela progetto, ok. Candela, aspetta, ok, così si vede bene. Candela che invece conferma il trendere di alzista. Guardo sotto, ho l'incrocio dello stocastico. Ho la DX che ancora è sopra il livello 30. Io entro in operazione. Faccio questo. Faccio 10 pip. Prendo e porto a casa. Ho fatto il mio TP1. Se questa le sfonda, inizio a fare TP2, TP3, TP4. L'altra volta, con EUR, non voglio sbagliarmi, JPE. Sì, EUR, JPE, sì, infatti vedi, c'è ancora una media mobile, una banda orizzontale aperta, che era il 24. Infatti, guarda, ce l'ho ancora assegnato. Io ero entrato qua. L'ho fatto vedere anche ai ragazzi in diretta, che ho chiuso il mio quarto take profit. Non so se ve lo ricordate, raga. Avevo chiuso il mio quarto take profit in diretta la settimana scorsa, perché ero entrato qua. Perché c'era stato, questo è il gulfing, Miri. E cosa ho visto sotto? Ho visto che il Mattia System era una fase di stallo ma compra. La DX stava crescendo e lo stocastico aveva toccato il livello 75-80. Ora cosa succede? Engulfing, entro. A metà dell'engulfing. Dove vedi il Fibonacci è 25. Sapevo che quel Fibonacci avrebbe fatto da supporto, poi dopo. Infatti, guarda dove era ritracciato. Perfettamente sul Fibonacci. E poi, come puoi ben pensare, ho fatto questi 100 pip. 100 pip perché? Perché toccando il 60 si è chiusa la mia operazione. No, te, Andre, in questo caso... Aspetta, 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 aspetta. No, no, scusami te, scusami te. Però in questo caso, il livello 37, il livello 50, e nel mezzo ho tirato altre due... Altre due resistenze. Mi hanno creato quattro take profit. Quindi ho fatto un'operazione rischio-rendimento uno a quattro in questo caso. Mettendo in operazione, se non mi ricordo male, 20 euro, ne avevo sviluppati 80. Certo. Mi dicevi Gianlu? Ti dicevo, Andre, però te in questo caso, con te sei andato long. Lo stocastico era già quasi ai livelli di percomprato. Però non aveva superato che cosa? Il livello 75. Ok, quindi non stava furfando, quindi ti hai detto, hai guardato la media mobile e hai detto, può andare ancora. Esatto, vediamo se così si vede meglio. Aspetta, ecco, così si vede meglio, guarda. Io ho visto che cosa? Io sono entrato, ripeto, a livello 25% di Fibonacci. Quindi cosa succede? Ho visto che a questo livello, ok, c'era una fase anche di laterizzazione dello stocastico. Però Mattia Sissa mi diceva che o stai fermo o entri in buy. Ok, quindi cosa succede? Io sono entrato in buy perché ho detto, mal che vada, questa tocca il mio key liver settimanale. E poi cosa succede? O mi prendo lo stop loss e quindi mi facevo 25, come vi dicevo prima, perché è 1 a 4, quindi sono arrivato a fare 100 pip. Il mio stop loss, quindi va bene, ho perso 20 euro. Però io avevo tante conferme dopo quando ho toccato il 25%, il 25% di Fibonacci. Perché? Perché c'è stato un trend rialzista. Innanzitutto, da parte che cosa? Mattia Sissa che mi dice entri in buy. Stocastico, buy. Ad X, su. La media mobile che si è curvata in maniera giusta e quindi si è trasformata in che cosa? Torno al discorso di prima, in supporto per le candele. Perché come vedete non hanno più passata. L'hanno passata sapete quando? L'hanno passata praticamente il giorno dopo alle 10 del mattino, quindi quasi 12 ore dopo. Quando capiamo che queste medie mobili fungono anche da supporto e resistenza mobile, cioè ragazzi siamo a cavallo con questa strategia, e io l'ho fatta mia quando mi sono accorto di questa cosa qua. Cioè guarda, anche qua, no? Ad esempio, qua non devi entrare in buy. Perché? Perché lascia stare adesso per un attimo tutti gli indicatori. Però c'è la media mobile che, come vedi, li tocca e scende, tocca e scende, tocca e scende. Quando lo sfonda? Quando nasce una candela progetto, che è un'indecisione questa, e subito dopo, alla sua scomparsa, nascono due candele rialzista che la prima, ad esempio, ha praticamente tre volte il corpo della candela progetto. Allora là ti dico sì, la sfonda. Infatti ha sfondato. Come ti dicevo, livello 25. Entriamo. Andrè, la media che c'è sullo stocastico è una media... L'RSI. L'RSI. L'RSI, ok. L'RSI. E non lo uso spesso, sono sincero. Però qualche volta lo lascio tranquillamente. per vedere giusto un attimino cosa sto succedendo con, appunto, la forza del... La forza, sì, sì. Va bene, raga, ci sono domande? Axel. Eh sì, 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 hai ragione, Axel, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Eh, lo so. Quando hai ragione, hai ragione. No, sto scherzando. Consiglio su un setup che stavo guardando proprio adesso, è Audi NZDH4. Allora. In cell. Questa che intanto ti apro anche la schermata di training view. E nel frattempo che si apre training view, continuo a condividere lo schermo, anzi, condivido qua, così. Perfetto, ok. Voi confermatemi una cosa, raga. Se faccio così, voi vedete comunque metatrader? No. Ok, allora, prima devo fare l'operazione di Axel e poi andare su training view di là. C'è ovvio, c'è la Dix che non convince, però... Era la... Ridimmi qual era la... Audi NZD. Ok. Tu comunque sei un H4. Esatto. Ok, ci siamo. Ok, Cell. Aspetterai giusto che si abbassi la Dix, perché da quello che mi dà poi con metatrader, è aperto con Gap questa seconda candela ribassista. O che il mio metatrader è impazzito sul telefono. No. Guarda, aspetta. Ce la fa ridere, eh? A me è aperto così. No, no, guarda. Sono... Guarda, è perfetta. Comunque, ti dico, qua, usando la strategia appunto multi-day di Fabri... Qua, tra l'altro... Pullback... Pasqua un altro pullback. Se mettessimo la strategia pullback, questo qua, adesso va così. Eh, tu... Io me l'ho scritta, poi non l'ho mai applicata, eh. Cioè mi sono guardato le lezioni. No, 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 no. No, no, no. Lo faccio più avanti tranquillamente. Adesso il pullback non lo faccio, perché... Succede che sbaglio a dire qualcosa. Perché ho visto su gruppo Telegram che... Aspetta, che ce lo passo gli appunti. Lui la impostava multi-day, però c'è un ragazzo... Ti ho perso? Ti ho perso? Ok, forse... Eh, è una collezione di merda, scusami. Che... Cioè, ho visto un ragazzo scrivere più volte di ottenere risultati con le M15 quando io mi ero scritto che era per l'H4, il pullback e il reversal. Sì, in teoria sì. In teoria è multi-day. Però nella pratica, come le mediamobili che ti ho fatto vedere prima, devi fartela tua, la strategia. Perché io, ad esempio, con la... Col fatto di diventare supporti e resistenze, come ti dicevo, è come se fosse un mio scalping le M15. Però, di discreverso, non è un consiglio finanziario. Assolutamente, però... Quella teoricamente è una doji fuori dalle bande. Nel pullback e reversa. Poi, ovvio, Andrea... In teoria sì, in teoria sì. Sì, sì, in teoria sì. Per quello che ti dicevo che nel pullback e reversa questa era il massimo per poi curvare e così via. Assolutamente sì. E ti dico anche un'altra cosa. Io... Aspetta, facciamo così che si vede meglio. Io il supporto... Allora, se adesso scende, tra un'ora, tra un'ora e mezza, se nasce una candela comunque ribassista, ma penso che sì, perché lo stocassico sta curvando e la DX sta dicendo che c'è un trend in corso. Ed è nato, appunto, da questa doji. Il prossimo supporto-resistenza che è, è questo qua. E sono un 12 pip. Però tranquillamente verso... Allora, mettila così. Se nasce una candela ancora ribassista, tocca la media mobile. Quindi più o meno la toccherà... Se la tocca, la toccherà più o meno qua. E sono 15 pip da adesso. Vedi tu se vuoi iniziare un'operazione per 15 pip. Io sinceramente no. Allora, adesso, visto il momento particolare di mercato, quando apri un H4, punto alla media. Ma prima avevo il 90%, cioè giuro. Infatti, quanto odio Putin, ve lo giuro. Prima, con le bande in H4, avevo chiuso l'86%. L'86% da banda a banda, con tutte le conferme. Per il primo mese e mezzo. Tanta roba. Cioè, tu hai preso l'86% da qua a qua. Sì, prima di staccazzo di guerra, che non si arriva a nessuno, sì. Assolutamente. Funzionavano da dio. Poi, come diceva appunto Miriana, nell'ultimo periodo si fa fatica. Infatti, ci stiamo appoggiando di più tipo alle figure di inversione, più che divergenze. Ma si vede tranquillamente anche da questa Australia-Neozelanda, perché guarda, qua siamo praticamente al 24 febbraio, ed era scoppiata da tre giorni, mi sembra, la guerra. Come vedi, guarda cosa è succedendo. Sembra più un cardiogramma che una strategia questa. Però, essendo che comunque questo qua è un massimo storico, perché guarda, te lo faccio vedere che si vede tranquillamente. Aspetta che si toglie, va. Ok, ci sono. Guarda, la proprio, la stava quasi per toccare. Qua siamo in weekly, andiamo in daily. Guarda, vedi, l'ha quasi proprio toccato. Questo adesso deve curvarsi. In daily non è anche questo, in daily non è un doppio massimo? Sì. Tac e tac. Magari si alzerà un po' di più. Magari si alza ancora di 20 pip più o meno, per poi scendere di nuovo. Quindi, tornando in H4, facciamo da qua 20 pip. Eh sì, vedi, ritorna qua magari. In questa maniera, vedi, tac, così. Per poi scendere. Però poi qua, trasformi in doppio minimo. Ok, quindi, presto attenzione che qua, la prossima settimana, rischi di, se non ci sono analisi fondamentali molto importanti, diciamo, qua rischi di farti profitto settimanale soltanto in questa valuta. Tipo con le V-reversal. Chiedo scusa. Sì, dimmi. Se è possibile. Mi puoi far vedere come inserisci i Fibonacci, da che punto nel grafico? Ok. Grazie. Come dicevamo prima, sempre a disclaimer, perché i Fibonacci è molto personale, in che senso. Vincenzo, che ho visto anche ieri, lo traccia in una certa maniera, perché usa determinate strategie. Fabrizio lo usa in una determinata strategia. Io l'ho dovuto adottare a quello che è la mia strategia d'H1. Io tendenzialmente cosa faccio? Se devo vedere adesso in che fase sono dei Fibonacci, io prendo il movimento precedente di quello indiretta, ripeto, il movimento precedente di quello indiretta, e traccio che cosa? Il massimo. E poi vado a tracciare che cosa? Il minimo. Quindi, aspetta che questo qua adesso lo cancello un attimo che vi faccio vedere cosa intendo bene. Che tanto ormai un po' si è capito, però preferisco farlo vedere bene. Quindi, no, aspetta, non è questo, oggetti. Dov'è Fibonacci? Eccolo qua. C'è un altro? Eccolo qua. C'è un altro. Ok. Quindi, abbiamo capito che il nostro massimo, perché siamo indiretta, il movimento precedente a quello indiretta, quindi questo qua è il nostro massimo, e abbiamo il nostro minimo, perché da qua si è creata questa salita. Quindi, il mio Fibonacci è esattamente da il massimo, il minimo, che ho spiegato, andando in M15, che magari vedo adesso dove siamo, deve toccare la media mobile, scusami, il livello di Fibonacci del 62.5. Quindi farà una breve discesa, breve discesa intendo 5 pip, infatti breve discesa, per poi o lateralizzare come in questa maniera qua, oppure scendere verso il livello 50. Ok. Ok. I livelli chiave di Fibonacci, perché qua vedete che ho il 75, ho il 25, ho il meno 12, se allargo lo schermo, un H1 magari, no, aspetta, così, facciamo i daily. Ok, c'ho anche il 161, il 261, però i livelli chiave importanti e fondamentali sono 0, 12, 37, 50, 62, 80, 700. Quelli di mezzo non sono livelli chiave. E di questi che ho appena detto, i più importanti di tutti sono il 37, 50 e 62. Ok. Ok. Grazie. No, va, niente, che cosa? Raga, c'è qualcun altro? Siamo rimasti pochi ormai, se c'è qualcun altro però volentieri, a 3D in view di Axel, giustamente. Andrea, ti volevo chiedere una cosa. Dimmi, Marco. Ma la DX, che vedo che c'è una linea in mezzo, com'è setata? Te lo faccio vedere in diretta, così me lo fai uno screenshot. Allora, 3D in view. Ok. 3D in view, seguito i mercati. Entriamo ad esempio in un bitcoin, fa niente. A meno vedo se c'è qualcosa da aggiornare nella mia analisi. Allora, torno a fare condividi schermo. Ok, schermo, condividi. Allora, la DX, eccolo qua. Proprietà. No, aspetto, ho sbagliato. È così. Indicatori, movement, modifica. Quindi, aggiungo il livello. Ok. 30. Ok, ok. Nero, i due, così. Colori, più di non, meno di non. Parametri, lascio quelli che avete, perché il periodo 14 è giusto e niente, basta. Ok, ok. Grazie Andrea. Ma niente, figurati. Ok. Allora, Axel, provami di aiutare te. Indicatori, quelli attivi, dove è che li vedo? Quelli attivi? Sì, aspetta. non ho mica capito, sai. Per vedere, come sui metà, Eccoli lì, dove sta scritto, scusa se ti interrompo, sotto a Bitcoin, c'è scritto, EMA 50, quelli sono indicatori attivi. Ok, e invece per vedere questo qua? Credo che devi andare sulla scritta ADX. esatto. E allora, Axel, tu lo trovi allora come ADX and D. Prova. Ma tu Andrea, fai le analisi da MetaTrader? Eh sì, purtroppo sì. Provato Andrea, grazie. È giusto Axel? Sì? Sì. Perfetto. Purtroppo sì, Miri, voglio spostarmi in, voglio spostarmi in TradingView, però, però purtroppo sono ancora su MetaTrader per ora. Io ho anche sempre operato su MetaTrader, poi ultimamente con Axel ho iniziato con TradingView e quando apro TradingView vedo delle figure, delle cose che su MetaTrader quando riapro per controllare nemmeno le trovo. Vedi, io ti dico una cosa, il, a dicembre, era il 20 dicembre, vediamo se mi puttai a dire tu e a dire voi, dov'è che si vede proprio la data giusta? Sotto. Ok, allora devo spostare le vostre belle faccine, ok, ci siamo. Quindi, ok, questa. Ok, il 20 dicembre, più o meno, io e Marco Sequi, che è l'altro ragazzo che fa le Zoom per quanto riguarda le cripto, è fatta una martedì, se non sbaglio. l'operazione insieme. C'ero. Ci siamo fatti un'analisi nostra, non avevamo niente da fare quella sera, ci siamo fatti una nostra analisi, no? E praticamente è successo che secondo noi, intorno, dall'analisi che abbiamo fatto, intorno al, diciamo, dal 15 gennaio fino al 20, 21 gennaio, 22 gennaio, dovevano crollare le cripto. Su MetaTrader non sono riuscito a fare una roba del genere. Esatto. Non vedi proprio, non vedi niente, non vedi il movimento, non... Assolutamente no. E ti dico anche un'altra cosa. Su TradeView ho notato che ogni due settimane, ogni due settimane, c'è una sorta di pullback reversal del Bitcoin. E te lo posso fare anche vedere. Prendiamo ad esempio il 20 gennaio, quindi sono 27, intorno al 5 febbraio, veniamo ad avere il 5 febbraio Bitcoin. Ok, guarda. Adesso conta due settimane, quindi fine mese, 28 febbraio. Ora doveva Bitcoin? Wow. Ora, non è un consiglio finanziario, ovviamente, quindi non è che ogni due settimane ci inventiamo di fare buy o sell di Bitcoin. Certo, certo, sicuramente. Però con TradingView ho notato sta cosa che mi ha ammazzato, perché con MetaTrader se avessi potuto analizzare una roba del genere, io penso che nei primi tre mesi di operatività che avevo fatto, che usavo soltanto Bitcoin come un pazzo, perché infatti ho bruciato due conti da 300 euro l'uno reali, e avrei fatto però dei bei soldini. Ma è facile per noi a usarla? È più facile o più di te? Assolutamente sì. TradingView è Pongo, tu prendi le tue manine e questo è Pongo, puoi fare quello che vuoi, cioè io tocco lo scarmo, posso fare quello che voglio, veramente. Ok, puoi prendere questa media senza che tocchi due volte, la sposti due volte, cioè puoi fare quello che vuoi. Puoi scrivere, disegnare, scarabocchiare, bellissimo. Assolutamente. Io nei grafici spesso lo scrivo perché sono ritardato tra tutte le cose che devo fare, magari mi dimentico cosa avevo preparato e scrivo. Tra l'altro, tra l'altro poi su TradingView c'è una, adesso non mi ricordo come si chiama il nome, che tu praticamente prendi dei setup, devi interpretarli e questi poi clicchi come se fosse il play della canzone per intenderci e questi poi fanno vedere il replay, esatto, fanno vedere se tu hai preso la tua operatività. Quindi cosa vuol dire? Che TradingView ti insegna dalla zero fino, esatto, dal livello zero fino al livello 100 come si opera, come dovresti operare, se hai capito o no e se è giusto operare con un conto reale o no. Con la versione a pagamento tu per dire, già oggettivamente fai live e quindi sei un livello superiore, con la versione a pagamento per dire ti imposto l'operatività poi a posteriore in una live spieghi, ho fatto questo intanto metti il play e va. Sì, sì, assolutamente. Infatti io... Ma si paga poi, chiedo scusa, si paga? Si paga. No, se è la versione premia, però anche la versione gratuita va da Dio. Se è demo dici che è gratis, ho capito. No, no, è gratuita sempre. Ah, è gratuito. E poi se fai l'upgrade a pagamento puoi inserire più cose. Esatto. Ho capito. Però per la nostra attività che stiamo usando, corregitevi se sbaglio, ragazzi, che voi lo usate da più tempo di me, va bene anche quello free. Ecco, per dire, io l'unica cosa operando con le bande dal telefono non lo faccio da trading view perché per dire bande con entrambe le deviazioni e stocastico, spazio per la DX non potresti metterlo perché è un quarto, però alla DX lo posso anche vedere dal telefono, non è un problema. Ok, ottimo, ottimo, va bene raga. Io vi ringrazio comunque, siete molto utili veramente. Grazie a te cara. Grazie. Raga, se non c'è nient'altro io andrei a mangiare la pappa. Buon appetito, allora, buona serata. Grazie mille, Andrea ci sentiamo. Ciao ragazzi, un abbraccio, la prossima settimana, ciao. Ciao a tutti.